Ciao ragazzi, ho avuto varie richieste per un video sfogliamo insieme i cataloghi di moda e io li faccio, scusate Dino, in casa, che guarda le iene volevo fare questo video di giorno ma non voglio aspettare fino a domani quindi lo faccio di sera spero che anche senza microfono vi rilassiate, scusate se sono sul letto vedrete anche il copripiumino dell'Ikea, arancione, con i cerchi comunque iniziamo subito spero vi piaccia, rilassatevi, chiudete gli occhi e se volete magari potete dirmi se avete comprato voi qualcosa da questo catalogo oppure no, quello è il catalogo che vedete è quello di Bonprix, edizione gennaio-febbraio alcune cose sono invernali, alcune cose sono già primaverili come questa maglia con le righe io premetto, adoro le righe e quindi comprare tutto con le righe, sia di invernale sia soprattutto di estivo in prima pagina come vedete, iniziamo questo video in prima pagina come vedete c'è questa ragazza con questa maglia bianca e rossa a righe tipo un po' da marinaretta anche se va molto di moda comunque la tendenza a righe lei è bionda e sta bene con il bianco e con il rosso questo è un pullover c'è scritto spedizione gratis e resi gratis pullover 17,99 euro io adoro Bonprix alcune cose come questa maglia costano poco altre costano più di 30-40 euro dipende da quello che si compra mi dispiace che Dino dia fastidio spero vi rilassiate scusate se non ci Dino ci sono i vicini allora in prima pagina vi dicevo c'è questa bellissima maglia che mi viene tantissima voglia di comprare ed è questa c'è anche bianca e nera ovviamente dal taglio morbido lavabile lavatrice viscosa 80% non è neanche cotone look primaverili bon prix ampia scelta moda anche nelle taglie comode quindi se siete curvi e non proprio uno stichino potete comprare benissimo lo stesso senza problemi niente valore minimo d'ordine qualità e vestibilità ottime prezzi super convenienti offerta di copertina questa maglia è bellissima oppure ci sono tante camicie ma io anche uscendo comunque nei negozi questo sito questo catalogo ha un sito appunto www.pomprix.it ma non credo che ci siano dei negozi veri e propri che si chiamano come questo catalogo non lo so magari da voi ci sono ma da me non ci sono camicetta fantasia comunque io preferisco comprare non online ma dal vivo nei negozi non so voi se comprate online e vi trovate bene comunque io ho l'armadio pieno di camicie e comprerei sempre solo camicie scusate parlo troppo questa camicia è bellissima 15 euro col fondo dritto spacchi laterali spacchetti laterali con questi qua sia su spondo bianco sono neri e grigi sia azzurri e neri questo rosa comunque bellissimo con un jeans come questa ragazza bellissimo questo outfit questa camicia poi ci sono pantaloni stivali cintura di pelle con testa di cavallo dei body io non li metto i body adoro i cardigan un altro pullover asimmetrico questo qui molto bello ma inizia già a costare un po' troppo 34 euro questa maglia con i fiori primaverile look casual con chiffon maglia con chiffon 20 euro cardigan 32 euro gonna con la piega quella lì blu costa 33 euro guardate che belli però a parte alcuni prezzi che sono costosi in questo vestito bellissimo un po' svolazzante abito a fiore 50 euro per essere precisi se no 47,99 anche lo stivaletto questa borsetta tutto bello questi pantaloni rosa adesso va anche di moda il floreale quindi in ogni negozio si vede tantissimo rosa tanti colori azzurri rosa verde tanti colori pastello e soprattutto tanto floreale e tanto pizzo io questo vestito lo adoro comunque bellissimo mezzemaniche svolazzante con le pieghe poi per le donne un po' più mature diciamo ma per ogni donna va bene comprare su questo sito io ho comprato delle maglie dei pantaloni un paio di scarpe e degli accessori mi sono sempre trovata benissimo guardate che bei colori questa maglietta così questa dolce vita mezzemana che io ne ho due di queste maglie così 12 euro l'ho pagata di meno cardigan corto e cardigan lungo questi così outfit eleganti blazer io adoro i blazer e non li trovo qual è un negozio dove li posso comprare che costano poco e che siano validi guardate che bello eleganti con una bella gonna con un pantalone palazzo lungo come questo largo in fondo bellissimo rilassatevi mentre parlo spero che vi piaccia questo video me l'hanno richiesto in tante me l'avete richiesto in tante e scusate se non mi ricordo i nomi di chi mi ha richiesto questo video però grazie tu sai chi sei voi sapete chi siete mi rilasso tantissimo quando guardo i video dove si sfoglia un catalogo guardate che bella questa maglia scusate love sunshine pullover con paillettes costa un po' cara 30 euro 27 questo blazer molto bello con i bottoni con questa collana intrecciata casual molto bello questa camicia così ne ho una molto simile un po' più fucsia ecco quasi così camicia lunga vanno molto di moda l'ho vista anche bianca e nera con le righe ma io non mettendo i leggings lunga non l'ho comprata preferisco le camicie corte in vita 12 euro una camicetta bianca è un evergreen la camicia bianca io ce l'ho rosa ce l'ho fucsia ce l'ho viola ce l'ho nera ma bianca ne ho una sola ne avevo un'altra mal rovinata in lavatrice le camicie vanno molto di moda ma questa questa è bellissima costa 25 euro però addosso a questa modella sta benissimo un bel colore maglia rosa maglia grigie pantaloni belle queste scarpe da ginnastica questi pantaloni così non passati inosservati lusso per me fulano in seta più o meno leggero 59 euro bello questo cardigan così bellissimo bello 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 lo adoro però costa carissimo cardigan lungo 50 euro anche questa maglia maglia lunga con le spalle un po' scoperte 29 euro e 99 costa un po' caro ma è bellissimo questo che dite vi piace poi questo vestito con i fiori maglia con i fiori con le righe va molto di moda l'effetto jeans usato slavato però non mi fa impazzire bello questo outfit su di lei con i tacchi guardate che bella queste scarpe però non mi fa impazzire vorrei tanti vestitini va di moda il floreale da civici moda l'ho visti un sacco di vestiti primaverili floreali però costano cari e poi magari li vedo sulla gruccia mi stanno bene mi piacciono sembra che mi siano bene e poi li provo mi stanno male mi danno fastidio segnano in vita sotto il seno la pancia e non mi piace questo vestito molto carino lusso in pizzo sandalo aperto abito in chiffon con pizzo io odoro il pizzo pantalone largo che va di moda abito premium questo qui 50 euro con un volano molto elegante anche con il volero per un matrimonio bellissimo 50 euro pullover con il pizzo questa maglia con il pizzo scusate i vicini che traslocano belli anche questi pantaloni jeans modellante con gli strass con i glitter bellissimo questi vestiti ecco vedete questi vestiti vanno bene per qualsiasi donna abito modellante a tubino in maglina però costano 50 euro tutti e tre e il jeans costa 39 giacca che va molto di moda al verde questo con i fiori vedete questi blazer pantaloni maglie vestiti giacca di jeans bellissima anche questa maglia così mi piace traforato con un top sotto queste maglie con le righe bellissima asimmetrica con manica a tre quarti ecco io la manica a tre quarti non la supporto mi la fastidio o lunga o corta ci va una via di mezzo poi andiamo avanti bbc selection guardate che bello questo vestito elegante patchwork anche la maglia uguale è molto bella c'è anche blu il vestito 33 euro la maglia 24 voi avete mai comprato qualcosa da bon prix piumino giacca trapuntata pullover mantella in pile giaccone imbottito tanti articoli fino alla taglia 64 rosa grigio va molto di moda anche il grigio il blu il verde petrolio verde menta io sinceramente il grigio e il verde non li adoro come colori il rosa il blu mi piacciono l'azzurro si ogni tanto mi piace ma non sempre la belliccia questa giacca qui è molto carina più o meno 23 euro maglia con gli strass con i glitter con le applicazioni in forma di cuore e iniziamo con gli accessori borse borse sharp ad anello questa borsetta qua mi piace io cercavo una borsa da giorno carina tipo questa molto capiente l'avevo vista da uvs 15 euro ieri sono tornata da uvs non c'era più ce ne sono altre ma non mi fanno impazzire ho perso l'occasione questa qui è molto bella quella rosa numero 8 39 euro costa no non mi piace 6 mil pelle costa 40 euro costa un po' troppo sharpina con decorazioni borsa tracolla molto belle queste qui ma sono un po' piccole cinture questi braccialetti sono molto belli bigiotteria ovviamente cinture c'è di tutto cinture borse braccialetti anelli sciarpe altri vestiti guardate che belli questo qui è molto bello a mezza manica con pizzo molto carino giovanile anche la giacca di pelle insieme pelle scamosciata molto bella 50 euro io me la sono comprata la giacca di pelle da Piazza Italia dopo anni e anni che la cercavo che la guardavo che la volevo ok pantaloni rosa con le converse molto bello questo pantalone sia uno che l'altro sono molto belli queste maglie floreali vestito floreale maglie checkings checkings camice camice la boscaiola le sneakers tipo mocassino la piazza ginnastica queste magliette così vestiti maglie con i pois bellissimo maglie gialle anche il giallo va molto di moda io non è che ne vado matta di questo colore i pantaloni sono molto belli però con il risvolto non mi piacciono aborro il risvolto lo aborro l'odio non lo sopporto non mi piace cappotto guardate iniziano i vestiti adesso bellissimi stupendi guardate questo con il pizzo questo con le perle sullo scollo questo qui con la gonna tutta svolazzante questa maglia con le aperture sul decoltè questo vestito un po' da collegiale 36 euro bellissimo questo qui con lo spacco e poi questo con la rete in pizzo bianco e nero certo che il bianco e nero è un evergreen è stupendo tutti i 39 euro guardate questo capello fasciante super scollato questo anche molto elegante questo qui con le maniche scoperte 39 36 euro abito da sera questo qui costa 70 carissimo però sono stupendi solo da guardare questi vestiti da lasciare addosso a loro che se lo possono permettere con sto fisico quel fisico che hanno le modelle questi sono bellissimi come abiti però io non saprei dove metterli quando metterli quindi stanno lì dove sono e questa addirittura senza le ciseno vabbè scusate commenti a caldo bello comunque questo pantalone un po' anni 70 con la manica così c'era una maglia da civici moda che aveva queste maniche così queste balze sulle maniche e non era così scollata perché questa è una giacca blazer con volà però era bella la maglia era aderente e aveva queste maniche così bellissimo 16 euro invece la giacca qui costa 32 il trench bello il trench business lady 59 euro nero guardate che bello questo abito in maglina giacca pullover vado un po' veloce così vi faccio vedere tutto elegante elegante da ufficio questa da ufficio tutta in jeans gilet e pantalone questa molto elegante guardate che bello qui di qua vestito elegante grigio in questo verde questi pantalone bellissimo questa che prende il sole John Banner jeans tanti jeans questo mi piace stretto strappati non mi fanno molto impazzire li mettevo quando ero 15 anni una teenager adesso non lo sono più mi sento già vecchia tanti jeans vedete potcut slim anche scarpetta ginnastica se ve le faccio vedere pantalone da corsa da giochi vedete anche cose per correre per fare sport cappotti cose sportive giacca elasticizzata costumi da bagno vedete si pensa già all'estate visto che siamo già dopo pasqua voi non vedete l'ora di andare al mare immagino guardate che belle queste scarpe vera pelle entra con stile scarpe da ginnastica scarponcini bello vero mi piace tantissimo anche da uomo da bambini ovviamente anche sul catalogo sul sito online ci sono tutti gli oggetti anche per la casa gli accessori da bagno da cucina regali anche per amici parenti figli nipoti mariti fidanzati intimo da donna da uomo ok voilà ok ci sono anche le mutande le calze le canottiere i reggisini da donna mutande da uomo pigiami camicia da notte un sacco di roba vedete i pigiami non dico cavolate c'è di tutto e di più anche da uomo boxer ad esempio questi qua blu 14 euro 3 con elastico best basic poi questa maglia da uomo bellissima questa giacca anche bellissima con 3 colori di azzurro 3 tonalità di azzurro giacca pullover 17 euro 24 euro quella giacca costa 59 da camicia non è niente per niente carino però l'outfit suo è molto bello camicia blu pantalone rosso slim fit camicia questa qui con i quadretti molto bella pantaloni vedete anche da uomo bellissima bellissima un sacco di roba anche da uomo questa maglia questa maglia qui bellissima rossa di non è a una molto simile nera un po' scollata con i bottoni con le tasche scarpe da ginnastica comfort bus sneaker in pelle finta pelle mocassini anche cose per la casa anello anticalcare porta strofinaggi appendini clip per finestra e tanto altro vestiti ok per oggi abbiamo finito ordini telefonici pompre.it 892 890 e questo è l'ultimo nell'ultima pagina abito in maglina 20 euro con il cardigan unito al vestito con i pois bellissimo anche questo 2 in 1 e la stanno viscosa 95% c'è sia blu e bianco nero e rosa nero e bianco vi piace vi piace tutto quello che vi ho fatto vedere spero che vi siate rilassati a presto sia ragazzi che ragazze vi saluto tutti vi abbraccio e a presto e Grazie a tutti